Vai a nozze con Faventia Tourist! Per il secondo anno Faventia Tourist mette in palio il tuo viaggio di anniversario ai tropici. Vai a Faventia Tourist e prenota il tuo viaggio di nozze o la tua lista regalo. Potrai vincere una vacanza ai tropici per il tuo anniversario. Faventia Tourist è a Faenza via 20 Settembre 1 e al centro commerciale Le Cicogne via Galilei 4. Il concorso è valido per chi prenota entro il 30 ottobre 2007. Consulta il regolamento sul sito www.faventiatourist.com e nelle agenzie. Vai a nozze con Faventia Tourist!